ciao a tutti e bentrovati nel mio canale sono tornata con una nuova tutora faremo questi bracciale per il momento non me non ho dato allora come vedete un po cambia perché qui utilizzato la pelle mentre qui utilizzati le cipollotti bene ho fatto anche un po di altre colore per farla vedere cosa sto parlando perché visto qui che non si vede molto bene va bene io vi presento i materiali e così iniziamo con il tutorial per realizzare questa bracciale occorrono la perla 6 mm bicono 4 mm cipollotti da cipollotti da 6 mm dopo 11 0 ok iniziamo con il tutorial che dobbiamo partire inserendo su ago una perla da 6 mm punto 11 0 per quattro volte quindi portate fino del vostro fine fine del filo è ripassata da dietro ecco come vedete i fili ci incontrano questa volta hanno rimanato di chiudere facendo 3 nodo ok avete fatto il nodo adesso andiamo e portiamo dentro della perla e portiamo avanti a uscire della perla successiva qua quindi esco da questa perla qui ok adesso inseriamo su ago un bicono un to e un bicono quindi uscendo da questa perla qua noi andiamo applicare fronte cioè qua quindi tiro filo e vado applicarmi sopra aggiustate bene adesso nuovamente inseriamo un bicono quindi inseriamo un bicono e andiamo inserire dentro della togo della togo quindi tiriamo il filo eccoci qua eccoci qua quindi aggiustiamo adesso andiamo nuovamente inserire un bicono e andiamo inserire di nuovo di nuovo a questa perline eccoci qua eccoci qua tirando bene come vedete abbiamo applicato un fiorino sopra le perle ok adesso scendo dalla questa perle dobbiamo andare inserire 8 togo su ago ok quindi inserendo 8 togo su ago uscendo da questa perla andiamo inserire da dietro questa è senza entrare nella togo solo nella perla e tirando il filo ok questo è il nostro cappetto per la chiusura del bracciale quindi qui adesso non rimane altro che ripassate e portate poi avanti per uscire con l'ago a questa perla ok uscendo da questa perla ora andiamo inserire su ago tre bicono una perla e un cipollotto quindi andiamo inserire da dietro dove esce il filo ecco quindi a questo punto qui non rimane altro di ripassare ok ripassate come vedete uscendo dalla perla a questa volta faremo nuovo come abbiamo fatto qui però questa volta già abbiamo una perla quindi andiamo inserire su ago soltanto quattro togo e tre perla quindi inserendo queste andiamo inserire nuovamente da dietro dove esce il filo tiriamo il filo quindi anche qui dovete ripassare e poi uscire da con l'ago a questa perla ok uscendo da questa perla di nuovo andiamo applicare le bicono come abbiamo applicato qui quindi inseriamo un bicono un togo e un bicono e andiamo inserire fronte il filo è il filo anche in questo modo e quindi allora ecco 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 andiamo inserire nuovamente dentro della toho non vuole andare quindi scendo dalla toho tiro filo tiro bene e questo appunto di nuovo andiamo inserire un bicono e andiamo a ripassare da dietro a questa perla qua e tiro filo eccoci qua e tirato filo quindi uscendo da qua nuovo ripassiamo da qui per uscire a questa perla qua ok quindi uscendo da questa perla andiamo adesso inserire a contrario le perline inserire iniziamo ad inserire un cipollotto un pelle e tre bicono e nuovamente ripassiamo da dietro a questa perla e tiro filo ecco come vedete il bicono adesso non applicarlo sotto ma applicarlo sopra quindi nuovamente ripassate e nuovamente uscite da questa perla ok uscendo da questa perla quindi nuovamente facciamo come abbiamo fatto qua quindi inseriamo su ago quattro togo quattro togo tre perle su ago e nuovamente ripassiamo da dietro quindi quindi non rimane di nuovo altro di ripassare e fare stessa cosa sopra cosa come avete fatto qua e qua quindi applicare le bicono sopra a questa perline ok dopo che avete fatto nuovo questi che avete fatto anche nell'altra due uscendo da perla nuovamente andiamo inserire iniziando ad inserire tre bicono una perla da 6 e un cipollotto da 6 e quindi ripassando di nuovamente della perla dietro e tiriamo il filo e come vedete nuovamente i bicono applicando sotto e non sopra quindi nuovamente ripassando quindi nuovamente dovete fare questi che avete fatto qui a queste tre e poi continueremo dopo ecco ho fatto anche la mia 4 fiorino quindi di nuovo uscendo da qua nuovamente andiamo a inserire un cipollotto un pelle e tre bicono quindi praticamente nuovamente applichiamo la parte superiore quindi ripasso da dietro a questa perla dove esce il filo e vedete il nostro lavoro sempre va avanti così che i biconi finiscono una volta sotto una volta sopra quindi anche qui ripassate e poi fate nuovamente continuando in fare a questa fiorini che abbiamo fatto qui 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 e qua ok comunque io non farò tutto bracciale però vi dico che i bracciali sempre dovete farli continuando andando avanti così che il piccolo come detto deve essere una volta sotto una volta sopra e dopo che uscite da perline fare nuovamente a questi fiorini allora poi dopo che avete fatto la vostra lunghezza dovete terminare facendo nuovamente a questa fiorini quindi inserendo di nuovo un togo tre perla e quattro togo quindi adesso io ripasso inserisco da dietro e vado applicarmi nuovamente i picconi sopra in questo modo come abbiamo fatto qua ok allora io vorrei abbracciare quando terminate con la lunghezza come qui vedete tutti i due lati terminano con fiorini come anche qua quindi andiamo applicare nuovamente otto togo su ago supporto via e nuovamente ripassiamo da dietro a questa pella quindi nuovamente facendo il cappettino per la vostra lunghezza per la chiusura del bracciale quindi non rimane altro di ripassare nuovamente a questa cappettino e poi dopo che avete ripassato potete anche chiudere il vostro lavoro io adesso non lo ripasso così poi lo smonto e contiverò con la mia bracciale ok spero che tutto con questo è tutto terminato spero che riuscito a spiegare bene e non dimenticate che è molto importante che il piccone una volta deve essere sotto e sopra sotto e sopra quindi la zig zag io per la mia lunghezza ho fatto 10 fiorini ok vi saluto e non so quando tornerò con una prossima tutorial io auguro a tutti comunque una buona estate so che siamo a giugno e anche io tra poco traferisco al mare e come detto non so quando tornerò con una prossima tutorial ciao a tutti